Venerdì 8 gennaio vediamo insieme i titoli di Occhio alla Notizia. E' ufficiale, dopo un fine settimana in zona arancione le marche tornano gialle dal lunedì 11 gennaio. L'annuncio del governatore che commenta è una boccata d'ossigeno, restano alti però sia i contagi che i ricoveri negli ospedali della regione. Tutti in fila per i tamponi, al via gli screening di massa per i fanesi e i cittadini di altri quattro comuni a dare l'esempio sindaci e assessori. Penso che sia una scelta responsabile verso gli altri. Chiusi da mesi per l'inefficienza di chi ci governa, il grido d'allarme di Ristori Italia che annuncia azioni collettive, dobbiamo lavorare e investire con garanzie dello Stato. Sostenere l'agricoltura per dare forza all'economia delle aree interne affrontò nella prima giornata del nuovo osservatorio regionale. Nuovo parcheggio in via del Risorgimento a Fano, avrà 88 posti auto e percorsi ad hoc per collegare i vari punti della città. Dopo 60 anni lascia l'ufficio dell'Associazione Armatori, il gruppo Pesca di Fano saluta Carlino Bertini, punto di riferimento della marineria. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli dopo due giorni di arancione nazionale sabato e domenica, le marche torneranno in zona gialla dalla prossima settimana. Lo ha annunciato su Facebook il presidente Francesco Acquaroli, che ha aggiunto una boccata d'ossigeno dopo un lungo periodo di restrizioni dure, ma dobbiamo restare prudenti perché il virus c'è e gira molto. Il governatore ha pubblicato anche i dati di un importante risultato. Nella classifica di ieri sera del Ministero della Salute, si legge in un post, la regione Marche risulta al quarto posto per i vaccini somministrati con il 50,8%, ben 8 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale del 42,2%. E oggi ha preso il via lo screening di massa in cinque comuni della provincia di Pesero e Urbino. Allora partiamo da Fano, dove sin dalle prime ore del mattino c'erano lunghe file di cittadini, compresi sindaco e assessori. Buona affluenza per il primo giorno dedicato ai tamponi di massa a Fano. In altri quattro comuni della provincia si è messa in moto la macchina organizzativa per tracciare positivi asintomatici. Lunghe file, sin dalle prime ore del mattino, sia alla palestra Venturini che al Cotma di Rosciano. Come mai ha deciso di fare questo tampone? Perché praticamente per sapere se sono positivo o no, è un controllo. A me hai fatto già tamponi, test rapidi, quindi è la prima volta e vuole tenersi controllata. Esatto. Crede che sia una bella iniziativa? Come no, è opportuno farlo insomma. Anche i giovani quindi in fila? Sì, certo. Penso sia importante sottoporsi a un tampone, soprattutto se è gratuito. Anche per stare più tranquilli in famiglia? Sì, sì, io non esco molto, però è importante. All'arrivo si prende il biglietto distribuito dai volontari della protezione civile e alla chiamata del proprio numero si consegna o si compila il modulo. Prima di entrare i volontari della Croce Rossa lo ritirano e misurano la temperatura corporea. Dopodiché alla chiamata dei sanitari ci si dispone in una delle postazioni, in pochi minuti si esegue il test e si ha la risposta. Il nostro referto ha dato esito negativo al Covid-19. È pronto il mio referto, signora? Numero 127. Esatto. È il mio. Allora, lei è la signora Simona? Sì. Mi fa vedere il suo numero? Eccolo qua. Questo è il mio numero. Signora Simona, lei è negativa. Meno male, la ringrazio, buon lavoro. Soltanto nella prima ora, ci spiega il dottor Giancarlo Giacomucci, sono stati effettuati 74 tamponi. L'utente ha tre etichette con uno stesso numero. Quella prima etichetta viene apposta nella piastra di rifertazione, la seconda nel foglio di rifertazione e la terza rimane in mano. L'infermiere fa l'esame, io lo referto, consegno il referto a un'infermiera che fa la dimissione, sostanzialmente chiamando con il numero dell'ultima etichetta che ha in mano l'utente, per motivi di privacy. Dopodiché viene dimesso. Finora non c'è nessun positivo. In campo alla Venturini ben cinque squadre dell'area Vassa 1, poco prima delle nove, sono arrivati anche il sindaco di Fano Massimo Seri e alcuni componenti della giunta. E' pronto ad entrare? Sono pronto ma non solo, ho convocato tutta la giunta, invitandola a dare il buon esempio, a venire tutti a fare il tampone questa mattina. E' un atteggiamento responsabile per la nostra salute e per la salute di tutta la comunità. Non bisogna sottovalutare queste cose. Vediamo che negli ultimi giorni, anche dopo le festività, la curva tendeva ad alzarsi, quindi non bisogna abbassare la guardia. E fare lo screening significa avere la fotografia esatta di quella che è la situazione nella nostra città. Serve anche per isolare i focolai che stanno per partire, quindi è fondamentale. Non mi aspettavo così tanta partecipazione, ha aggiunto Seri, che ha ringraziato la regione, l'area Vassa e le associazioni, sottolineando il bel lavoro di squadra presente questa mattina anche l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi. Non riesco a farlo stamattina a questo punto perché dovrei entrare in questo momento, ma tra aspettare poi l'esito eccetera, faccio tardi, ho un impegno in regione, ci ritornerò nel pomeriggio oppure domani. Ho fatto comunque un'opera buona perché ho passato il mio numero al sindaco Seri che è appena arrivato, quindi lievito la fila. Fare lo screening di massa è fondamentale perché in un momento come questo, dove i contagi stanno riprendendo a crescere e i nostri ospedali sono in seria difficoltà in queste ore, avere una mappatura dei cittadini in maniera approfondita sul territorio, isolando chi pur non rendendosene conto, essendo asintomatico, è comunque positivo, noi eliminiamo un fortissimo rischio di espansione di contagi. Ad oggi, a questo momento, noi siamo in zona gialla. Se stasera confermiamo questi dati e stasera il Ministero decide quali sono le regioni gialle, arancione o rosse, noi oggi siamo in zona gialla, quindi dovremo continuare a esserlo anche nella prossima settimana. L'iniziativa, evidenziato l'assessore, è stata fortemente voluta dalla Regione. Grande lavoro anche dei volontari e dei sanitari. In questo caso abbiamo per ogni giorno circa 50 volontari che tutti i giorni si mettono a disposizione degli utenti che stanno facendo le file, stanno compilando i moduli per partecipare a questo screening, una cinquantina suddivisi tra la palestra Venturini, dove sono un po' di meno, e il Codma, per cui sicuramente questo è un ottimo lavoro di squadra che siamo riusciti a mettere in piedi anche con la protezione civile, non solo col CB Club Mattei, ma anche col volontariato della Croce Rossa italiana. Lo screening di massa continuerà tutti i giorni, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino a mercoledì 13 gennaio. Penso che sia una scelta responsabile verso gli altri. È di Fano? Abita qua in zona? Sì, abito qui in zona. Quindi ha scelto anche il posto più vicino? Sì, decisamente sì. Ci proviamo, sì, ne approfitto. Come mai ha deciso di sottoporsi al test rapido? È così, per un controllo, in modo tale sto anche un po' più tranquillo. Siete ancora preoccupati in questo periodo, l'aumento dei contagi crea un po' di timore? Certamente no, perché tanto vedo che è un po' tutto sotto controllo. Si spera però di finire il prima possibile? Sì, ritornare alla normalità il prima possibile, questo sì. E adesso passiamo agli altri comuni che rientrano nel piano dei tamponi di massa. Letizia Marchionni questa mattina è andata al bocciodromo di Marotta. Questa mattina alle 8 si sono aperti anche i cancelli del bocciodromo comunale di Marotta per dare il via allo screening di massa, gratuito e su base volontaria, che permetterà di intercettare ed isolare gli asintomatici con Covid-19. Mentre per i comuni di Monbaroccio e Cartoceto, infatti, i tamponi saranno effettuati al ristorante La Tagliata in via Monbaroccese l'11 ed il 12 gennaio, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, per i comuni di Mondolfo e San Costanzo lo screening è partito oggi ed i primi cittadini si sono presentati già alle 7.30 di mattina nonostante la pioggia. Grazie al lavoro svolto dalla protezione civile è stato poi possibile spostare all'interno del bocciodromo la fila di persone in attesa, prevista inizialmente all'esterno, mantenendo in questo modo i cittadini asciutti. Sono diversi giorni che come Comune di Mondolfo, insieme alle associazioni di protezione civile e di Croce Rossa, stiamo organizzando tutto l'iter, che è abbastanza complesso perché riguarda, nel nostro caso, più di 20.000 persone. Abbiamo previsto dei percorsi di attesa, l'ingresso anche al coperto, in caso di maltempo, come oggi è purtroppo. Però tutto sta andando molto bene, siamo molto soddisfatti, anche grazie al supporto, come dicevo, della protezione civile e del Croce Rossa, che ci stanno dando veramente manforte, ma i risultati sono molto soddisfacenti. Quanti operatori si parla per voi della protezione civile? Quante persone si sono impegnate in queste preparazioni? Allora, abbiamo sette persone dislocate come volontari di protezione civile di due associazioni diverse, l'associazione Fadi Bruno di Marotta e l'associazione Circolo Velico di Torrette e poi abbiamo quattro volontari della Croce Rossa all'interno della sala ciria che ha supporto della personale ASUR e diamo supporto all'ingresso del parcheggio, compilazione moduli e in stradamento. Le modalità sono le stesse di Fano. Dopo aver compilato il modulo ed aver effettuato la misurazione della temperatura, una volta fatta la fila si procede verso Sala Ciriachi, dove all'ingresso viene consegnato un numero con il quale si verrà chiamati una volta passati i 15 minuti di attesa per ottenere il risultato del tampone. Noi avevamo queste cinque postazioni e per ogni postazione c'erano due operatori sanitari, due infermieri che facevano i tamponi antigenici e io come figura di biologo. Perciò fondamentalmente sono 11 persone, abbiamo avuto 471 persone che hanno aderito al test antigenico di massa e di questi 471 abbiamo avuto 6 positivi stamattina che poi abbiamo immediatamente fatto il tampone molecolare e dentro le 24 ore daremo una risposta del tampone molecolare per confermare o meno la positività del test antigenico. Avete appena fatto il tampone, come è andata? Siamo entrambi negativi, una buona organizzazione comunque, molto bene, siamo stati molto bene, gente brava. Perché avete deciso di fare il tampone? L'abbiamo fatto prima di tutto per noi e poi per gli altri, sapendo che siamo così andiamo via più tranquilli e riceviamo anche a casa gente più tranquillamente, perlomeno non lo trasmettiamo, sappiamo di non trasmetterlo. Sì abbiamo deciso di farlo giustamente perché dobbiamo fermare un attimo la curva anche dove si infetta un sacco di persone essendo asintomatici credo che sia la cosa più migliore perché un asintomatico inconsapevole gira e può infettare senza saperlo. Com'è stato fare il test? Un leggero pizzicorio, questo sì, però niente di che, comunque ben organizzati, veramente abbiamo un sindaco straordinario e niente mi ha fatto piacere vedere come hanno organizzato, come hanno disposto tutto, quindi perfetto, nulla da ridire. Ogni giorno saranno processati circa 1200 tamponi, ha poi specificato il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri che per rafforzare l'invito a partecipare si è sottoposto a sua volta al tampone rapido assieme al vice sindaco Di Otallevi. Queste prime ore è andata bene, ci sono tanti cittadini che sono venuti sia del comune di Mondolfo ma anche di San Costanza e quelli che sono residenti nella zona sud di Fano e noi ringraziamo i tanti cittadini che stanno venendo, i volontari della protezione civile della Croce Rossa, il personale sanitario ASUR coinvolto in queste giornate e l'invito a tutti i cittadini è quello naturalmente di partecipare, cercare di partecipare il più possibile in maniera massiva per rendere efficace questa importante iniziativa organizzata dalla Regione Marche e ASUR. E al bocciodromo comunale nella giornata di oggi si sono sottoposte al tampone rapido complessivamente 924 persone, 6 sono risultate positive. Alla Venturini invece si sono recate 779 persone, 5 i cittadini positivi al Covid, al Codma infine 1455 persone di cui 23 positive. Sono 9 invece i decessi legati al coronavirus registrati nell'ultima giornata nelle Marche, tra le vittime anche un'anziana di 87 anni di Fossombrone. I nuovi positivi sono 564 di cui 112 nella provincia di Pesero Urbino, negli ospedali della Regione ci sono 10 ricoveri in più rispetto a ieri per un totale di 600. Calano di uno però sia i pazienti in terapia intensiva che quelli in semi-intensiva. Le aziende chiudono i battenti per l'inefficienza di chi ci governa. Con queste parole, Ristor Italia annuncia un'azione collettiva e torna a chiedere a gran voce la riapertura di bar e ristoranti. Dopo mesi di chiusura, qual è la situazione del vostro comparto? La situazione generale è molto brutta. Siamo arrivati nel 2021, 11 mesi di sopportazione di tutte le situazioni. Abbiamo capito che così andare avanti è impensabile e ormai evidenziare un'inefficienza anche di chi governa, per quanto non vogliamo essere polemici ma realistici. C'è inefficienza e chiediamo soprattutto che capiscano chi ha il dovere di governarci, che non possiamo andare avanti con l'orologio in mano e vedere ogni giorno se siamo gialli, arancioni o rossi e pensare che aprire un bar o un ristorante sia una cosa, un gioco e noi messi nel dimenticatoio. C'è un problema di salute, certo, l'abbiamo dimostrato con il nostro rispetto di PCM, ma c'è un problema economico. Qual è il programma di Ristor Italia? Il programma di Ristor Italia è in primo punto quello di una class action, per far capire che comunque esiste un settore intero, un comparto che fa il 16% del PIL. Abbiamo 500.000 aziende che hanno chiuso il 31 dicembre, altri 500.000 arriveranno a chiudere il 30 giugno. Non possiamo permetterci questa situazione e ancora peggiorarla, quindi bisogna che prendiamo il toro per le corna e far capire che noi siamo un settore forte e che è un comparto necessario per il turismo. E c'è anche un altro punto importante. Un altro punto è quello di una richiesta che non è stata fatta, evidentemente in questo momento dovrebbe invece essere subito presa in considerazione nell'agenda dei migliori politici italiani, cioè di darci la possibilità a noi aziende piccolo, medio, grande di fare un piano di investimenti quindicenale, 15 anni con garanzie dello Stato, due anni di premortamento per ripartire e saper lavorare al meglio senza essere soffocati. Quindi chiedete aiuti, ma anche la possibilità di riaprire, è così? Noi in realtà non vorremmo aiuti, quali ristori che siano delle piccole, diciamo, briciole perché vogliono fare le mosine. Noi vorremmo lavorare, visto che la ristorazione è sicura, abbiamo metabolizzato tutte le leggi del DPCM, il ristorante è uno dei posti più sicuri, non può essere, ormai l'opinione pubblica tutta lo sa, dobbiamo assolutamente lavorare e pagare quello che bisogna pagare, ma non possiamo campare più così. Cambiamo argomento, la Giunta Comunale di Fano ha approvato il progetto per il nuovo parcheggio di via del risorgimento, ma vediamo tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. Buone notizie per chi usufruisce del parcheggio di via del risorgimento, quello a fianco al commissariato di polizia di Fano. Che il suo stato sia veramente pietoso e sotto gli occhi di tutti, buche profonde, pozzanghere infinite, manto sconnesso, insomma, sembra di percorrere una vera e propria gincana. Dopo le numerose segnalazioni arrivate sia alla nostra redazione che al Comune, la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto preliminare per un costo complessivo di circa 400 mila euro per la riqualificazione dell'intero parcheggio. Il progetto che abbiamo approvato riguarda proprio la riqualificazione di tutto questo spazio dove andremo a creare 88 posti auto, sarà un intervento di qualità con materiali di qualità, saranno drenanti, quindi non ci sarà uno spazio diciamo solamente una semplice asfaltatura ma andiamo proprio a riqualificare anche con una qualità urbana degna di questo luogo. Salvaguarderemo tutta questa fascia verde adiacente ai passeggi, salveremo diciamo anche gli alberi che rimarranno e ne pianteremo altrettanti sia per ombreggiare il parcheggio ma anche appunto per una nuova piantumazione. saranno circa 30, una trentina di alberi il parcheggio sarà completamente gratuito. Un parcheggio comodo, sicuro e funzionale che servirà a tutti i frequentatori degli uffici e le attività commerciali vicine oltre a favorire l'accessibilità al centro storico. Importante è anche sottolineare che ci sarà un nuovo collegamento dal parcheggio verso i passeggi all'altezza del ponte in modo da facilitare appunto l'accessibilità al centro storico. Per i tempi invece? Abbiamo appena approvato il progetto preliminare quindi i prossimi mesi andremo spediti con il progetto esecutivo e quindi per iniziare i lavori nella seconda metà dell'anno. Sostenere l'agricoltura per dare forza all'economia delle aree interne nel castello di Frontone ieri si è svolta la prima giornata del nuovo osservatorio regionale. Raccogliere idee e condividerle mantenendo il rapporto tra istituzioni imprenditori agricoli ed anche operatori e cittadini sempre vivo e costante con il fine di indirizzare in vista della programmazione delle ulteriori risorse del programma di sviluppo rurale i lavori del tavolo politico strategico e delineare le priorità per il settore agricolo nell'arco di tempo che va dal 2021 al 2027. È l'obiettivo dell'osservatorio regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale un organismo permanente la cui prima giornata di lavori si è svolta ieri 7 gennaio al castello di Frontone un ente fortemente voluto dall'assessorato all'agricoltura regionale e che rientra nel progetto Frontone 2021 nell'ambito delle iniziative del PSR Marche atto a rilanciare e dare impulso ad un settore importante per l'economia della regione come quello agricolo. Un giorno molto importante questo per l'agricoltura marchigiana abbiamo messo insieme in questo castello bellissimo a Frontone le associazioni gli imprenditori più significativi i tecnici che lavorano intorno al mondo dell'agricoltura anche gli accademici per avere un contributo reale su come migliorare questo settore visto che abbiamo una possibilità di finanziare i prossimi 7 anni attraverso il PSR europeo che è davvero molto significativo e quindi su questo pensiamo di buttare le basi di una nuova economia agricola che riparta Durante la giornata svolta la presenza del capo dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Blasi e dell'autorità di gestione del PSR Marche Lorenzo Bisogni oltre all'agricoltura i temi trattati sono stati quello dei cambiamenti climatici e della sostenibilità la tutela dell'ambiente il rilancio della filiera e l'internazionalizzazione dei prodotti del territorio L'ospicio è superare il prima possibile l'emergenza sanitaria perché è oggettivo che seppur non c'è solo l'emergenza sanitaria l'emergenza sanitaria ha un impatto devastante sulla nostra economia sulla nostra quotidianità la socialità e quindi non può essere considerato questo un momento normale fatto speriamo presto questo passaggio importante e io credo che l'auspicio più importante sia quello di riuscire a creare una visione condivisa del nostro territorio e della governanza del nostro territorio E adesso due belle notizie partiamo dal gruppo Pesca di Fano che oggi ha rivolto un saluto e un ringraziamento particolare a Carlino Bertini il priore della confraternita di Santa Maria del Suffragio ma anche consulente del lavoro per 60 anni dell'associazione armatori moto pescherecci Carlino in pensione già da tempo aveva continuato a ricoprire il ruolo di segretario ma senza contratto iniziò il primo gennaio 1960 allora poco più di un bambino e oggi è deciso di chiudere il suo ufficio che il gruppo Pesca gli aveva lasciato a disposizione è stato un compagno di viaggio preparato e intelligente si recava da noi tutte le mattine ci ha raccontato Tonino Giardini e per tutti noi Carlino rappresenta la storia della marineria fanese Dona il plasma iperimmune per la quinta volta è il bel gesto di solidarietà del campione di anticorpi Cristian Marinelli ristoratore di Sant'Andrea in Villis che dopo aver sconfitto il covid nella scorsa primavera ieri è tornato all'ospedale San Salvatore di Pesaro per compiere appunto la sua quinta donazione e vi annuncio prima di chiudere che lunedì sera riparte Primo Cittadino il programma di Fano TV dedicato a tutti voi telespettatori e ai sindaci della provincia di Pesaro Urbino quindi lunedì sera alle ore 21 subito dopo il nostro telegiornale Occhio alla Notizia saremo in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri io vi auguro una buona serata con i nostri programmi ricordandovi il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni buona serata a tutti voi e l'appuntamento per domani mattina con la Rassegna Stampa arrivederci